Quando uno ha il desiderio di creare, di approcciarsi all'arte, l'arte ha tanti, cioè sfoce in tanti modi, nella fotografia è stata l'unico, la porta proprio di accesso a un mondo creativo che permetteva proprio a me stessa di potermi esprimere. Benvenuti in una nuova puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno realizzato il lavoro dei propri sogni oppure accanto a un lavoro apparentemente normale hanno creato qualcosa di straordinario. Oggi con noi abbiamo una persona straordinaria che ha creato un qualcosa di straordinario, è inutile fare troppe presentazioni in realtà perché fa più di un lavoro, crea più di un evento, ha creato appunto più di un'iniziativa, lei è Mara Salerno. Ciao, grazie, bene, che bello essere qua, questa novità di questo bellissimo studio, Umano, bravo. La domanda con cui parto di solito in qualsiasi mia intervista è cosa fai nella vita? Tante cose. Perché questa è la vera domanda. Tante cose, non ci si annoia mai. Ok. Professionalmente, vabbè, sono laureata in tecnologia alimentare, quindi mi occupo di sicurezza alimentare, è una cosa... Ok, una parte. Una parte, ma nel tempo libero mi occupo soprattutto di fotografia. Appena mi sono laureata è stato immediato il tempo da dedicarmi a questa passione che pian piano è cresciuta, fin quando tre anni fa, sì, due mila di... no, sì, non di più. Cinque anni fa ho fatto questa accademia di fotografia, quindi ho dato questo... Input in più. In livello in più e... A parte che non si finisce mai di imparare, però insomma ha aperto ancora di più il desiderio, comunque aspettative sempre da fare sulla fotografia, soprattutto progettuali. Sì, ma... quindi ti occupi di fatto da un lato di parte tecnologica, diciamo così... Di testatore alimentare, sì. Di testatore alimentare, e invece dall'altra parte di fotografia, ma io ti conosco, diciamo, più dall'ambito fotografico perché seguo la tua pagina. Grazie. Che tra l'altro è super seguita in me, nel senso che ne ho parlato un paio di persone, anche che ho intervistato fuori onda, mi hanno detto certo, sì, riconosco l'esempio che è. E come è iniziata invece questa passione? Che poi invece è qualcosa di più? Allora, la passione, io credo che ognuno di noi ha delle caratteristiche e sia una cosa proprio così naturale. Ho sempre disegnato, anche mentre studiavo all'università, disegnavo, dipingevo, però non ho avuto conoscenze per approfondire quello che riguarda il disegno e la pittura. Ho trovato invece immediato, un po' più immediato, un po' più... che mi rispecchiava di più invece la parte creativa legata alla fotografia. Solo che ci voleva molto studio, molto tempo e ho potuto solo approfondire dopo che mi sono laureata, perché io lavoravo, studiavo, una serie di impegno non indifferente. Però ecco, quando uno ha il desiderio di creare, di approcciarsi all'arte, l'arte ha tanti... cioè sfoce in tanti modi, nella fotografia è stato l'unico... la porta proprio di accesso a un mondo creativo che permetteva proprio a me stessa di potermi esprimere. Sei innamorata di quello. Sì, non vedi come mi si sbrillucci i cagliocchi. Non per niente, ho fatto anche un tatuaggio legato alla fotografia. Ma invece, quale è stata la tua prima macchina? La prima macchina? Una Canon, entry level, proprio base base, poi pian piano una serie di... sempre un po' più pro, anche perché comunque la fotografia è bella quanto può essere, ma comunque è una passione costosa. Ha dei questioni differenti. E tu, anche tu lo puoi sapere. Anche la mia prima macchina è stata una Canon in realtà. Una Canon? Ma io poi ho ottenuto quel livello. Canon, Canon, Canon. Mi sono spostato per esigenze, nel senso che sul lato video Canon, quando ho iniziato io, era un po' più sotto degli altri in realtà. E quindi, e soprattutto, più sotto degli altri, ma soprattutto come fasce di prezzo. Perché ai tempi io prendevi la 5D Mark III, o se no, niente. Niente. Nel senso che non c'era nient'altro. Io uso ancora la 5D Mark III, una delle mie preferite, storiche, però è un full frame importante. Certo che passare a un full frame ci hanno piegato un po'. Nel mio caso all'inizio, no, io proprio non ne avevo iniziato male, tutto sommato, perché avevo messo via un ton di risparmi da parte. La prima era prestata. Sì, ok. Perché non era mia. Mi ho iniziato con una cosa non mia. Dopo un po' di tempo, in realtà, non era ancora un lavoro, però ho preso una, era una 7D2. Una 7D, sì. Io a 4,50 se dovessi dire, la 4,50D. Era una bella macchina. Però, vabbè, a parte che anche mio padre, che tra l'altro da poco mi ha lasciato la sua analogica, ho iniziato a scattare, aveva una Canon, però vabbè, forse anche da lui mi sono andata un po' alla Canon. Però, secondo me, adesso si pensa tanto che la macchina fotografica fa al fotografo che è stare all'avanguardia a quei tempi, avere un'attrezzatura molto, molto tecnologica all'ultimo grido, sia comunque fare una bella fotografia. Ecco, vorrei, secondo me, il tipo, l'attrezzatura di sicuro aiuta e favorisce a esprimere una tua certa idea, ma non è quella che fa la bella foto, perché sappiamo che ti trovi d'accordo. Sì, assolutamente. Le più belle fotografie, secondo me, sono state fatte anche senza tutta questa tecnologia, quindi con l'analogico. Tanti dicono che macchina hai, allora, se non sei quelle più belle, non sei nessuno. No, in realtà, no. Io poi mi sono spostato quasi subito sul mondo video, però l'idea era raccontare una storia. E quindi mi sono spostato di lì proprio perché mi sembrava che avessi più modo, diciamo, di raccontare una storia. In realtà, poi, mi sono scoperto negli anni, nonostante sia rimasto innamorato dal mondo del video, che in realtà non è vero. Anche con le foto si può raccontare. No, assolutamente. Ma c'è anche la tecnologia che si utilizza, assolutamente, anche si metti a fare le riprese con una cosa, però... Mi sono accorto che anche con una macchina vecchia, ok, digitale, ma nel senso vecchia, datata, o con una fascia di prezzo molto inferiore, in realtà puoi fare qualsiasi cosa perché il punto era il contenuto. Il punto è il contenuto, il saper comunicare, l'idea che puoi avere, come vai a trasmettere, assolutamente. Anche se l'utilizzo della telecamera ormai su un cellulare ormai è stata divulgata a tutti. Con tanti pro e contro, cioè, l'automatizzare una fotografia, cioè, la fotografia come arte è l'unica, secondo me, che è alla portata di tutti, attraverso anche, appunto, l'inserimento della fotocamera nel cellulare. Questo cosa comporta? Comporta che ci sono una marea di immagini, una marea di fotografie e si va, sì, a permettere a tutti di poter fotografare, ma anche a banalizzare in sé la fotografia, perché senza costi, perché comunque uno può scattare tantissime fotografie, solo che non tutti hanno l'educazione allo sguardo, non tutti sanno come comunicare. Quindi si va un po', secondo me, a abbassare la qualità. Sì, sì, assolutamente. Certo che un tempo, adesso senza costi, ma io ci ho pensato un po', ci ho riflettuto su questa cosa anche adesso che ho iniziato a voler provare a scattare con l'analogico, con un rullino da 36, sono 36, ho provato, adesso faccio uno shooting con l'analogico e con il digitale. Ah, scatto un digitale velocissimo, 200, 300, 400, anche in 2-3 ore, 36. Ma così attentamente studiate, così, ma proprio un'attenzione diversa. Quindi si fotografa proprio in modo diverso, ho pensato a questi grandi fotografi, quanto ci potessero mettere l'intenzione, le conoscenze e comunque l'importanza che vai a dare uno scatto, cosa che adesso lo si fa molto di più per divulgarlo sui social, è immediato, solo che diventa più immagine, non è più la fotografia stampata e l'arte proprio di tutto quello che ci può essere dietro allo semplice click, anche perché aveva un costo esagerato, cosa che adesso... No, adesso non c'è. Ma anche, no vabbè, ma anche adesso scattare una logica. Il costo del rullino, il costo dello sviluppo, il costo... Vabbè, si può poi scannerizzarlo, però anche stamparlo, a parte anche lì si apre un mondo, secondo me è interessante perché vai a studiare i tipi di carta, i tipi di inchiosce, cioè si apre proprio un mondo della fotografia, secondo me è veramente della fotografia che si sta un po' perdendo. Ma secondo me, ho visto un po' un ritorno su alcune... Un po' vintage. Sì, ma non so se è questa cosa del vintage che sta ritornando, che sicuramente è vero, ma proprio anche io ho un amico che assolutamente non fa il fotografo, ed è lontano dal mondo della fotografia come possiamo conoscere noi, con il fatto di fare proprio tutto un altro lavoro, e lui ha deciso che ogni una volta all'anno stampa delle foto che ha. Allora, prima di tutto, dell'immagine, diciamo, stampa delle immagini che ha scattato. Lui le scatta con una macchina, un entry-level, è una macchina tranquillissima. Alla fine ci siamo accorti, perché poi quando c'è qualcuno si riesce, ne stampa due copie e magari te le regala. L'ha fatto per qualche anno questa cosa qua, e ci siamo accorti che, prima di tutto, si è accorto lui che ne stampa pochissime. Cioè, di un archivio che ha su un anno, ne stampa buone, penso trenti. Assolutamente. L'attenzione, la scelta, lo scatto. E sono tante volte, come si diceva prima, foto che raccontano qualcosa. Quindi... Perché inizia a dare valore a quello che stai facendo. 99 su 100 non è da solo. Oppure è in un viaggio. Che ha fatto con qualcuno e l'altra persona gli ha scattato la foto. Quindi non è soltanto chi c'è il ritratto, ma anche l'importanza di chi ha fatto lo scatto. Esatto, sì. È un mondo... Molto più, sì. Ha anche questa importanza, ecco, la fotografia, che non è solo, appunto, scattare con un cellulare o un selfie. Io sono qua, guardatevi solo. Sì, sì, c'è qualcosa di più. Come è stato il progetto Bergamo Sognata. Infatti io ti ho invitato oggi anche per quello. Sì. Perché volevo chiederti un pochettino come è nato questo progetto. Ormai io personalmente l'abbiamo già visto girare, nel senso che non è un progetto che gira da poco. Ha fatto un bel tour, sì. È stato richiesto in punti molto importanti, secondo me, nella Bergamasca. E la cosa che volevo chiederti è come nasce un progetto del genere, in generale, ma soprattutto come è nato questo progetto. E poi, appunto, che... No, mi ferò. Poi dopo le altre, dico dopo. No, poi facciamo uno spoiler. Un progetto di curiosità. Sì, vai. I progetti artistici, se vogliamo chiamarli, come tutta l'arte, nasce da un bisogno di esprimersi, un bisogno di buttare fuori quello che si sta provando. Spesso sono sentimenti, emozioni un po' forti. Probabilmente in quel momento stavamo vivendo tanta paura, tanto smarrimento. Avevamo bisogno di raccontarlo e di farlo uscire. Quando tu fai uscire un po' della serie di emozioni, li vai un po' a sminuire delle volte, un po' come tutta l'arte, ma anche la capacità, l'arte che ti può dare, di rivedere le cose in un altro modo. Ma perché? Spieghiamolo per chi magari non lo sa. È un progetto che è nato durante il covid, giusto? Sì, lo davo. Bergamo Sognata nasce appunto nel periodo di lockdown, in cui la città di Bergamo, purtroppo, molto colpita. Stavo già, perché avevo fatto un corso in game, che va bene, sull'arte, e stavo già un po' pensando all'unione di due linguaggi diversi, fotografia e grafica, per andare proprio a inserire qualcosa di particolare, di molto creativo. E ho conosciuto questo illustratore, Fabio Buffelli, in una fiera, tra cui è nata anche una bella amicizia. Gli ho acquistato delle sue illustrazioni, io gli ho fotografato il suo matrimonio, insomma, c'è nata una bella complicità, gli ho detto, ma perché non facciamo qualcosa insieme, quindi uniamo questi due linguaggi, chissà. Proprio in quel momento stavamo appunto poco dopo, soffrendo di questo periodo. E da qui la necessità di raccontare Bergamo nel momento appunto di sofferenza, però dandoci un attimo anche un po' di leggerezza, un po' di poesia. Quindi ho scattato le fotografie di Bergamo nel pieno isolamento. E era vuota, non c'era nessuno. Assolutamente vuota, però già pensando che Fabio avrebbe disegnato all'interno. Quindi sono state fotografie sostanzialmente descrittive, così pulite come erano, senza darci una cosa, un quadrature particolari, qualcosa da raccontare perché sapevo che dovevano servire un po' da tela per disegnare la base per un quadro. Quindi sostanzialmente rappresentano fotografie in bianco e nero appunto perché vogliono essere la storia da raccontare, la testimonianza di quello che effettivamente vedevo e provavo e andare in giro con un permesso comunque ma è stato veramente brutto tanto che ci sono stati perché l'ho fatta in più momenti ma mi sono fatta accompagnare dal mio cane tu vieni con me assolutamente perché ci sono delle vie di questo isolamento di questo silenzio così agghiacciante che mi mi spaventavano cioè soprattutto ma città alta va bene abituati forse a vedere città alta movimentata felice allegra frizzantina il vuoto assoluto ma colpo al cuore e un altro un altro posto la stazione la stazione è stata una di quelli che più mi ha mi ha mi ha devastato cioè non sono riuscita a star lì tanto perché mi mi inquieta era proprio inquietante ma perché poi non è una non è un pericolo fisico cioè nel senso non c'era nessuno quindi non era un pericolo è una buona sensazione sicuramente è una sensazione del treno che si muove dei passeggeri del movimento di tutto quello che ci può essere in una stazione silenzio sì 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 il vuoto quindi è stato molto forte tra l'altro ti dirò c'era il mio cane che ha portato questo catalogo per fartela vedere questa fotografia della stazione c'era cioè piccolo dettaglio che nessuno sa c'era il guinzaglio del mio cane attaccato qua ok quindi in realtà questa foto la mettiamo se guardate questa puntata se la state guardando su youtube chiediamo a Mara se possiamo mettere questa foto sì assolutamente ok e quindi sotto la scritta Bergamo sotto la ragazza che si vede c'è il guinzaglio il mio cane attaccato e lì pronto ecco quindi rappresentano sono fotografie in bianco e nero sostanzialmente che testimoniano il silenzio e proprio una situazione irreale e un vuoto quindi andando poi a colmare questo vuoto con dei disegni colorati di Fabio che andavano un po' a così raccontare poeticamente quello che che stavamo vivendo come lo stavamo vivendo e un po' a riempire quegli spazi vuoti cioè che come avremmo voluto vivere insomma quegli spazi ed è per questo che si chiamava Bergamo segnata esatto il sogno era proprio il volere ritornare a vivere nella nostra città con con una spensiera a testa che stavamo perdendo il sogno di poter ritornare a vivere Bergamo questa è stata l'associazione quindi è nata quindi da una vostra idea sì e poi dopo dicevi prima ha fatto un tour di fatto ha fatto un bel tour in primo luogo questa rappresentata diciamo che vabbè dopo aver preso il patrocinio dopo essere stati sostenuti da diversi supporti tecnici tra cui principalmente anche Intesa San Paolo che ha subito creduto in questo progetto è stata subito presentata all'ex Ateneo di Città Alta quindi è stata allestita in un modo molto molto accogliente con con l'aiuto di Mondval che ha dato proprio la possibilità di mettere le fotografie in questi diciamo e tutto l'ex Ateneo poi allestito con delle piante del verde di linea verde e è raccogliente dalla possibilità di entrare di sedersi di rimanere di gustarsi qualcosa sì di vissuto ma anche vicino perché è stata proprio l'anno scorso marzo 2022 però ecco di non sdrammatizzare però raccontate in un certo modo quasi immergersi nel vostro sogno cioè in quello che stavate sognando esatto poi comunque un bellissimo gruppo perché ho coinvolto tanti miei amici grazie all'associazione Cliccarfoto con Gaetano Andragna che ha potuto permetterci appunto di fare questo progetto ho coinvolto Davide Agarri che è un grandissimo amico insieme a Stefania Maimone anche lei una delle mie più care amiche che hanno potuto poi curare tutto l'insieme tra cui anche Giorgio Dell'Acqua ha curato poi l'allestimento dell'ex Ateneo con un bel gruppo si sa che sia una potenza sia una forza e molto molto importante da lì visto poi no sono venuti anche dei ragazzi a fare guardiania quindi dall'istituto delle suore poverelle c'è stato proprio un bel coinvolgimento poi essendo nel cuore di città alta tanti turisti anche se eravamo ancora nel periodo in cui non si potevano stare tanto c'era un numero ridotto di persone però comunque c'era un bel un bel via vai del via vai e da lì poi è stata spostata è stata richiesta a maggio maggio-giugno all'ospedale all'ospedale Papa Giovanni che è stato un po' il fulcro dell'emergenza e il punto più più importante per cercare di combattere insomma al momento che stavamo vivendo quindi un punto dolente ma importante per uscire per curarci e per guarire ecco il fatto che sia stata richiesta lì penso che vi avrà dato una soddisfazione grandissima molto dopo averla portata diciamo nel cuore della città chiamiamo così è stata riportata magari in quello che era il tempi il cuore dell'emergenza esatto il cuore dell'emergenza un tour non indifferente sotto questo punto di vista sì poi fare l'inaugurazione col direttore generale il direttore sanitario ascoltare anche i loro racconti è stato veramente emozionante e purtroppo per chi può essere lì in ospedale poteva essere anche uno spunto di così di sogni ci sono chiaro ma anche un modo per girare io appunto non sono nuovo all'ambiente ospedaliero effettivamente camminare nell'hospital street con qualcosa di anche solo una mostra un qualcosa di colorato un qualcosa che può allietare un attimo il momento di attesa esatto non è da poco era vicino alla torre 7 ok tra l'altro abbiamo donato due due opere all'ospedale perché rappresentano appunto l'ospedale e anche c'è un fuori tema perché è una fotografia che ho fotografato tantissimi anni fa poi faremo vedere allora questa è quella il parco della trucca ok è lì accanto all'ospedale per chi non è di Berga molto lì accanto esatto che era quello che si voleva poi vivere anche i nostri parchi e e questa questo qua è un fuori tema perché non è una fotografia scattata durante il lockdown ma con una periferica che c'era sulle mura però il senso che poi Fabio ha voluto dargli come sostegno appunto degli infermieri alle nostre cadute certo mi è piaciuto ecco sono esposte tra l'altro nel reparto di oncologia nella sala tulipano e la maggior parte dei cataloghi sono stati donati all'associazione OB che è di grande sostegno per i malati oncologici e con un piccolo una piccola donazione si può avere il catalogo e aiutare poi l'associazione ok super è stato bello anche questo riscontro che è stato dato e poi c'è la possibilità tra l'altro di continuare a fare questo tipo di queste donazioni immagino sì 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 se si può appunto lasciamo un link qua sotto così almeno assolutamente si può rivolgere si può acquistare comunque con una donazione avere anche il catalogo ecco super super e poi da lì è andato in una parte si è spostata completamente opposta a ciò che poteva essere l'ospedale quindi l'ospedale appunto luogo movimentato un luogo importante che doveva essere appunto di rinascita di aiuto per uscire all'aeroporto l'aeroporto orio al serio completamente fermo cioè gli opposti quindi un luogo immobile che non tra l'altro simbolico nel senso della libertà di poter si muovere di poter andare viaggiare sognare era proprio quello che non poteva fare niente quindi anche allestire lì col direttore della SACBO e insomma poterlo esporre alle partenze tra l'altro era esposto vicino alle vetrate quindi in autostrada passando si potevano vedere tutti i pannelli è stato molto molto emozionante in che periodo è stata è stata esposta da settembre a novembre ok quindi stava ripartendo qualcosa ma proprio poco sì in realtà loro perché loro 2022 2022 e l'aeroporto era ancora chiuso no 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 iniziava a ripartire esatto siamo ripartiti alla grande qualche sì 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 lo sto pensando facendo i conti effettivamente è un tempo sospeso cioè delle volte facciamo fatica a ricordarsi a collocare delle cose perché abbiamo vissuto in una bolla in quel caso lì mi rendo conto che un sacco di persone mamma ti capiterà sicuramente anche te penso dicono ah eh sì prima del covid dopo vi conti o se no sembra l'anno scorso e poi dice ah no era prima del covid è un avanti cristo un dopo cristo prima del covid dopo il covid è un momento storico non indifferente quindi uno se lo ricorda cos'era sembra stupidato ma è vero e quindi ok quindi è passato in aeroporto e adesso è attualmente esposto in domitis che è una residenza per anziani tra l'altro anziani in una categoria in quel periodo molto colpita molto fragile che ne ha risentito tantissimo quindi secondo me è andata ad abbracciare un po' tutti i punti cardinali di questo di questa pandemia super super una cosa che abbiamo aggiunto è questo un QR code che per ogni illustrazione ogni illustrazione ha di per sé un QR code separato e permette un po' ormai questa questa voglia di interagire col cellulare nelle opere d'arte è ormai tanto presente però inquadrando il QR code rinquadrando l'immagine si può vedere in tridimensionale le illustrazioni e viaggiare un po' all'interno della fotografia con le illustrazioni senza una una cosa bellissima sì sì una cosa un po' così ha voluto dare questo valore aggiunto per per entrare proprio un po' di più all'interno provare sì assolutamente ma possiamo avere dalla visione il telefono ti faccio vedere questa è quella un po' più elaborata ma che roba ok ok adesso rinquadri aspetta perché sta andando su un sito ok posso usare la telecamera si poi riutilizzi la telecamera ma non ci credo ma è strabello eh eh si si muove si muove poi vabbè calcola che le fotografie erano le molto grandi quindi le illustrazioni erano molto grandi quindi interagisci fantastico un po' di più però anche anche sul sul catalogo ha il suo bel effetto ma avete creato davvero una cosa fantastica ma al di là del del di questa chicca il fatto di voler andare a spiegare voler andare a ehm in realtà da un lato fissare un momento perché di fatto è storia è storia però raccontare la storia però esatto cioè il fatto di volerlo raccontare non è non è davvero è una cosa davvero spaziale e poi adesso ripeto sfoglierò meglio sfoglierai tutto il catalogo anzi sappiamo che rimane in un mito fino al 28 maggio ok quindi questa puntata adesso stiamo vedendo quando sarà in realtà il termine di pubblicazione però ci sono ancora un po' di giorni per andare a vederla poi insomma vediamo magari potrebbe essere esposta senza andare a fare spoiler però chissà potremmo un tour secondo me non si ferma non si ferma portare sono innamorata della mia città quindi avere l'onore anche di raccontare di portare questo questa testimonianza per me è un grande una grande importanza che spero che avremo modo ancora di organizzare da qualche altra parte assolutamente io non sono molto convinto magari a distanza di un po' più di anni per me forse resto molto ravvicinato però è anche un po' pian piano dimenticato spero però magari tra qualche anno potrebbe avere ancora più effetto sì poi considera che secondo me il fatto di spostarla di posto in posto magari tanti non l'hanno che ne so non l'hanno vista piuttosto che non la conoscevano il fatto di ritrovarsela in punti diversi come può essere l'aeroporto o l'ospedale c'è dei punti anche frequentati secondo me mantiene viva tra virgoletto una memoria o riaccende una riflessione perché secondo me il punto un po' che si sta perdendo nessuno di noi vuole sicuramente andare a rivivere certi momenti però il fatto che di andare a ricordare ricordarsi quello che questi momenti ci hanno insegnato perché è innegabile che qualcosa di buono ci abbiano insegnato secondo me è importante tenere vivo quel ricordo non il fatto di essere stati chiusi in casa e le ambulanze che abbiamo visto o sentito ma proprio il fatto di mantenere vivo quello che abbiamo imparato o il rapporto che abbiamo costruito con gli altri in quel momento pur essendo lontani fa davvero tanto dal dolore bisogna sempre uscirne secondo me questa mostra è degli insegnamenti è questo cioè è anche questo e quindi il fatto che questo tour non si fermi e appunto ve lo auguro è secondo me difficile che si fermi sarebbe a questo compito e forse è un po' l'evoluzione di questo del compito di questa mostra tra l'altro abbiamo una pagina Instagram che è Bergamo Sognata e anche il sito www.bergamosognata.it quindi non ci si può anche aggiornare non ci si può sbagliare se abbiate dove andare a cercarli e adesso avrei un'ultima domanda attenzione aiuto tanto che tu hai fatto un avete realizzato tu e Fabio una mostra appunto che si chiama Bergamo Sognata se hai o qual è il tuo sogno per Bergamo di domani o un domani non per forza vicinissimo o magari domani domani tu mi dici no Marco io poi domani mattina avrei questa cosa perché quella buca nella mia via non l'hanno ancora sistemata non è un fastidio oppure se no un sogno per Bergamo ma sai che ultimamente vedo vedo la mia città molto attiva molto vabbè sarà che quest'anno è anche capitale della cultura quindi è piena di eventi e sarebbe bello un grande impegno vederla sempre così accesa per ora mi piace così mi piace tutte queste queste sfaccettature che sta avendo sia nella musica sia che nell'arte va bene sono innamorata di Bergamo quindi non troverò per ora delle cose da cambiare cioè viaggio mi piace viaggiare ma mi piace anche tornare mi capita anche spesso di andare a Milano Milano fondamentalmente io ho studiato sia fotografia sia la mia università lì quindi Milano ha tantissime opportunità che Bergamo per esempio non ti dà questo sì una città più piccola chiaramente è legabile però mi piace stare in una città piccola che in cui c'è la possibilità di incontrare qualcuno che conosci sentirsi parte di una comunità unita anche il rapporto che c'è con le persone è diverso sicuramente forse se ti piace questa cosa è assolutamente fantastico quindi Bergamo sognata e Bergamo amata aggiungerei assolutamente quindi niente io Marti ti ringrazio tantissimo per essere venuto e aver accettato il nostro invito ti ringrazio un sacco per avermi lasciato assolutamente certo io voglio un autografo mi dispiace che non ci sia qua Fabio stasera perché vorrei anche il suo ma avrò modo di incontrarlo e mi porto il book per farmelo firmare vi ricordo invece che questa puntata la potete trovare su Youtube su Spotify o su tutte le altre varie piattaforme per ascoltare i podcast troverete invece i link di cui abbiamo parlato tra cui appunto la pagina Instagram di Bergamo segnata i contatti di Mara e tutto questo mondo lo trovate nei link in descrizione e ripeto ti ringrazio ancora Mara per essere stata qui e ci vediamo per essere umano nella prossima puntata di Inumano ciao grazie ciao